DALUMAC Dalumac è una decorazione della linea antiche terre fiorentine di Candis appartenente alla famiglia delle moderne. E' a base d'acqua, mediamente traspirante e prodotto con un'attenta scelta delle materie prime. Dalumac viene proposto in cinque basi differenti, red, orange, grey, acqua e brown, addizionabili con i toner coloranti Candis. Il ciclo decorativo prevede l'applicazione, se necessario, di una mano di primer Candis diluito, una parte di primer e sei parti di acqua. Il fondo a TF bianco si applica utilizzando una pennellessa, un rullo di lana o a spruzzo con apposito compressore. E' consigliabile l'applicazione in due mani, la prima con diluizione di acqua al 20-25%, la seconda al 15-20%. Mediante pennello, stendere il prodotto decorativo DALUMAC coprendo una superficie di 1-2 metri quadrati. Dopo qualche minuto, ma comunque prima che i metri quadrati pitturati non siano più lavorabili perché già troppo asciutti, passare più volte il frattazzo in plastica Candis, fino al raggiungimento dell'effetto decorativo desiderato. Il tempo di attesa è indicativo e dipende dal maggior o minore assorbimento della parete e dalle condizioni climatiche. Continuare ad applicare così con pennello frattazzo per altri 1-2 metri quadrati adiacenti ai primi, fino al completamento della parete. Si consiglia di non applicare il prodotto per righe orizzontali o verticali, ma viceversa di seguire un percorso frastagliato. Per ottenere la decorazione mostrata in esempio con effetto tridimensionale, si deve procedere nel seguente modo. Applicare a pennello la prima mano con il prodotto DALUMAC nella tinta scelta. Quando asciutto, dopo 6-8 ore, applicare sempre a pennello la seconda mano, avendo cura di lasciare sulla parete abbondante materiale. Immediatamente, prima che il materiale inizi ad asciugare, rifinire la parete intervenendo con l'attrezzo zerbino, operando dall'alto in basso o a scelta in orizzontale. Procedere decorando nel modo descritto per circa 1-2 metri quadrati per volta. Grazie per la visione!